4 e la prima lì togiti precision la non devo correre ma l'albero non cresce metterlo vicino all'acqua no, se lo spacco non lo perdiamo no, sicuro sta accadendo ce ne mancherà un tipo 10 sicuro, ho metto vicino all'acqua? si, stavo per cadere si, si, metto vicino all'acqua che almeno lì è vicino alla luce e all'acqua non può morire vabbè, finiamo il lavoro, dai quanti? ce ne mancherà una decina ok, direi che non possiamo finire quando arriviamo oh, la pesetta oh oh c'è una freccia bugata dai ah, scusa un momento senza parole silenzio silenzio o metto silenzio oh no, ah guarda c'è un enderman che sta morendo perché? perché è attaccato al cosa al cattus adesso tanto morono tutti ma non so se l'enderman muore con la luce si, no no non so beh, non si sa mica di solo l'enderman oh oh cristo aspetta, vado a ripulire metti via tutto, non perdere eh, c'ho meno vita io, dove fanno io dai, dai, sono dietro di te, tommy, tommy dai, fagli a vedere tiragli un pugno di destra, un pugno se vuoi fare solo dei destri tiragli un sinistro è razzista, ma io devo farlo saltare a sinistra e vai e con anche dei boss non guardare l'enderman vai avanti aspetta, preciso non guardarlo, eh non mi fai guardato facciamo l'impossibile no non so niente da perdere ok, vai io provo, eh aspetta, non guardi sei fatto sei e la cenina come lo facciamo? e adesso come salto indietro vado a farlo aspetta, c'è l'enderman rimetti le cose oh cristo rimetti le cose dentro rimetti le cose dentro va bene c'è l'enderman che sta spostando il cubetto rimettilo a suo posto è terrorizzante, dame paura oh no, pò, una fottuta provare di soltare qui oh, oh, oh oh no oh no posso guardare i piedi ah, ha sfigato oh, cazzo enderman, ti prego ti prego, non mi spingere please, enderman metti giù il cactus vattene via, dai ci serve il cactus perché? figlio di puttana perché doveva fare un evento di cactus eh, non ne basta uno eh? non ne basta uno sì, ma io voglio anche quello ok, dopo ti faccio vedere io, figlio di puttana guarda poco un bug, eh? oh cazzo, no non mi spingi a cazzo, enderman io ho minimato a colazione, tuoi amici è che non trovo punti dove te le trasportate adesso ok, dobbiamo fare l'ultima strada o rischiamo ogni volta dobbiamo fare l'ultima strada appunto era per recuperare lì si, hai già risposto oh cazzo, acqua, acqua, acqua 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 visto metti il coso dentro metti il robo metti il robo qua lì, ok no, aspetta io non vederei la dovere si, lascio la dovere e crescerà quando sarà il momento certo che abbiamo messo la lava proprio sullo spawn va bene lì è bellissimo come so vai io spacco tu questa mappa è davvero una cosa assurda allora abbiamo raggiunto l'altra isola quindi gli obiettivi adesso saranno tanto ma fai a farti un accendino, ci deve essere qua in giro qua in giro ci deve essere della del ferro oh cristo acqua oh no dai sì sì eh non c'entrano ma metti un po' di terra raga ah sì beh l'ottimo me li sapete ma santo dio grazie a tutti grazie a tutti